buona giornata con l'almanacco barbanera oggi è il 10 dicembre si ricorda sante ulalia il nome ulalia deriva dal greco eo bene e la leo parlare significa parlare bene o ben parlante dice il proverbio chi perde la roba perde molto ma chi perde il cuore perde tutto sono nati oggi emily dickinson amedeo nazari eva robbins il 10 dicembre 1901 vengono consegnati per la prima volta i premi nobel la cerimonia di consegna di quello che è l'encomio massimo dell'epoca contemporanea si tiene sempre in questo giorno nell'anniversario della morte del fondatore il 10 dicembre 1936 muore luigi pirandello lo scrittore di origini siciliane era stato insegnito del premio nobel per la letteratura nel 34 infine il 10 dicembre 2010 dopo la scomparsa di michael jackson esce il primo album postumo contenente musica inedita è intitolato semplicemente michael larry wing ha detto il problema non è che non sappiamo è che non facciamo ciò che già sappiamo arrivederci da barbanera dal 1762 l'almanacco più amato d'italia